Buongiorno a tutti, mi chiamo Michele Sconfietti, ho 25 anni e a luglio di un anno fa mi sono laureato in governe politiche pubbliche. Da gennaio di quest'anno lavoro come borsista di ricerca presso Polis Lombardia a Milano, che è un istituto che svolge attività di studio e ricerca a supporto del Consiglio regionale. GPP è un corso di laurea che consiglierei a tutti coloro che hanno a cuore il destino del nostro paese e della nostra Europa, perché credo che mai, come in questi mesi di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, sia stato evidente a tutti come sia importante che la cosa pubblica venga gestita da personalità competenti e adeguatamente formate. Ecco, credo che GPP sia certamente un corso di laurea in grado di fornire queste competenze con un buon mix di insegnamenti di area storica, politologica, giuridica e economica che permettono agli studenti non soltanto di acquisire le conoscenze, ma anche di costruirsi una forma mentis in grado di adattarsi a contesti diversi e comprendere i meccanismi che ne stanno alla base. Uno dei principali punti di forza di questo corso di laurea consiste nella possibilità di mantenere un rapporto diretto con i docenti. Nel mio anno eravamo iscritti in una trentina, un po' come una numerosa classe di liceo, e questo da un lato ci ha consentito di poter interagire al meglio con i professori, rendendo anche più proficuo il lavoro in aula, e dall'altro ha consentito a molti di noi di approfondire i segmenti delle diverse materie che più erano confacenti alle nostre attitudini. E questo approccio permette non soltanto di raggiungere una buona padronanza dei contenuti delle diverse materie, ma anche di cominciare a mettere le mani nelle possibili applicazioni pratiche delle conoscenze che vengono acquisite. Un altro aspetto che rende GPP una laurea magistrale professionalizzante è la possibilità che viene lasciata allo studente di costruire piano di studi in modo tale che sia il più possibile corrispondente alle proprie attitudini, scegliendo alternativamente esami che sono incentrati principalmente sull'amministrazione pubblica italiana oppure su quella europea. Quando io mi sono iscritto ho scelto un curriculum incentrato più sulla PA italiana e a proposito di questo segnalo anche la possibilità di inserire un tirocinio curricolare per 6 dei 12 crediti liberi, anche sfruttando i consigli dei docenti che senz'altro possono segnalare la possibilità di tirocinio in settori che sono affini al percorso di studi. Ed è un'opzione che consiglio per poter toccare con mano il mondo del lavoro in questo settore e per potersi schiarire alle idee sulle proprie aspettative. Un anno fa infatti ho svolto un tirocinio curricolare proprio presso Pollis dove lavoro ed è stata un'esperienza determinante per convincermi poi a partecipare alla selezione per le borse di ricerca e a tentare quindi di intraprendere una carriera nell'analisi delle politiche pubbliche. Infine io abito in provincia di Pavia e sono di parte ma lasciatemi dire che studiare a Pavia è qualcosa che offre a uno studente una marcia in più. E questo non soltanto per la grande tradizione e prestigio di questo ateneo che gronda storia e cultura in ogni suo curtile o per la possibilità di avere come docenti elementi di assoluto valore ma anche perché Pavia con la sua università è davvero a misura di studente basti a pensare al sistema di collegi, alla disponibilità di aule studio, alla grande varietà dei corsi di laurea che vengono offerti, alle possibilità di crescita culturale che viene offerta dal grande patrimonio storico artistico e anche ecologico della città e dei suoi dintorni e anche perché no le possibilità di svago perché diciamocelo la vita dello studente non è soltanto studio, l'importante è non passare da un eccesso di studio, un eccesso di attività ludica però diciamo che Pavia anche da questo punto di vista offre certamente la giusta sintesi. Spero che la mia piccola testimonianza in qualche modo possa essere risultata di aiuto, un saluto e un grande in bocca al lupo a tutti